Gusta il Centro Storico 2014 conferma la formula vincente di questi anni e triplica gli appuntamenti. Una tre giorni da venerdì 13 a domenica 15 grazie a Confesercenti che al consueto percorso con inizio da Via della Repubblica tra aperitivi, antipasti, primi, secondi, dolci, digestivi e caffè, aglietato da esposizioni, musiche ed esibizioni, quest'anno abbina lo spettacolo di sabato sera alle 21 nel Chiostro Maggiore di San Francesco dal titolo Io e di Marco cotodisco allievo di Enrico Brignano e l'esibizione nella stessa location domenica alla stessa ora di Lubian, chitarra e voce in duo con Floriano Bocchino. Il tutto compreso nel biglietto di Gusta il Centro Storico a 14,50 euro. Novità soprattutto perché la stagione è quella che è e penso che ormai per i poveri Ogubini è andata la stagione estiva in quanto c'è il ballottaggio, poi l'insediamento, quindi se tutto va bene alla metà di luglio, fino a luglio se ne parla, per cui questo sarà uno dei pochi eventi che l'estate a Gubina avrà. E allora ho pensato, io ma anche gli altri col soffragio della Confesercenti, di allungarle. Quindi quest'anno con lo stesso biglietto di Gusta il Centro Storico avranno la possibilità, chi acquisterà i biglietti, di godere di tre serate. Quindi avremo venerdì, sabato e domenica. Venerdì classico giro di Gusta il Centro Storico, irripetibile e devo dire ancora una volta grazie a tutti gli albergatori e ristoratori che mi sepprestano una volta all'anno a questa iniziativa. Però il sabato, con lo stesso biglietto, potranno assistere dentro il chiostro di San Francesco alle 21, uno spettacolo con Marco Dodisco, che è il pupillo di Brignano. E quindi se lo porta sempre dietro, fa spettacoli, ha fatto televisione. È un pischello, chiamiamolo così, molto molto bravo e quindi lui ci sarà sabato. E poi la domenica invece Lubian e Floriano, che sono due artisti, sempre dentro il chiostro di San Francesco, alla domenica sera, quindi dalle 9 e dalle 9 in poi. Lubian, che è un artista famosa con Floriano, ha già lavorato con Giuseppe Ferreri, con Laura, quindi hanno inciso dischi in America, sono validissimi. Fanno un repertorio molto... avremo l'occasione, siccome li ospito tre giorni, venerdì, sabato e domenica. Allora, venerdì, durante Piazza Bosone, faranno un assaggio molto più... c'è confusione, per cui molto più orecchiabile, con delle cover e quant'altro. Mentre invece la domenica sera, dentro il chiostro c'è più silenzio, più magia, quindi avremo modo di gustare. Lei è una chitarra e voce bravissima e lui, Floriano, ha il pianoforte. Quindi saranno tre giorni all'insegna del... no del volemose bene, ma del Gustavo, c'è questa bellissima città che ci hanno... che dico sempre, ci abbiamo un gioiello dentro e non verrà mai sfruttato adeguatamente.